Grazie a Roberto Mancini. E' un secondo, prima che se ne vada Mancini, diamo voce a un amico a casa. Luca Cianciolo ci scrive, molto speranzoso ci pare di capire, vorrei chiedere a Mancini se noi interisti facciamo bene a credere alla qualificazione in Champions League. E lui è il mago Silvan. Vabbè, intanto gliela buttiamo lì. Ma credere bisogna sempre crederci, perché se uno non ci crede già è difficile arrivarci, se uno non ci crede neanche è impossibile, quindi nelle cose quando si fanno bisogna sempre crederci. Giusto. Grazie a tutti.